Io credo che abbiamo fatto moltissimo, sento raccontare cose che non si è fatto niente, che non si sono aiutati gli italiani, ci sono i dati veri della cassa integrazione, i dati veri del sostegno ai redditi, 600 euro che adesso diventeranno 1000, che ci dicono che tante persone sono state aiutate, che hanno perso il reddito, che ci dicono che tante imprese cominciano a avere la possibilità di avere una liquidità, non basta, bisogna fare più in fretta. I provvedimenti però li stiamo facendo e li abbiamo fatti, adesso bisogna che non ci sia quello che c'è stato nella prima fase, cioè che poi quei provvedimenti arrivino alle persone con troppo ritardo. Le imprese vanno aiutate subito, io credo che sulle infrastrutture, sugli investimenti bisogna da subito mettere in campo interventi proprio per investire i soldi che ci sono già per completare le infrastrutture. Va messo in campo un piano che pensa all'Italia del futuro, un'Italia che guarda l'ambiente, la Green Economist, che investe sul trasporto su tutto il territorio nazionale, mentre una parte oggi è abbandonata. Bisogna investire sulla telematica, sulla rete informatica, perché tutto ciò, l'abbiamo visto in questi mesi, può aiutare il Paese a fare un salto di qualità.